Buonasera, scusami signor, ma io non sono abituato, cioè non è il mondo di pirarmi che io lo frequento tanto. Buonasera, non è il mio ramo, io sono il viceviettore di una banca, in Italia è una filiale molto importante, ma mi sembra, questo è un Rolex, è un assegno circolare in tutto il mondo, questo è un Rolex, 600.000, è un assegno, 600.000 pesos, 300.000 lire, signor, tu sei simpatico, tu hai il senso dell'humorismo, mi piace come, mi piace, è proprio perché mi piace, è un Rolex, 600.000. Entendo, tu vuoi negoziare, tu ama la negoziazione come per il cammello e il tappeto, io dono a te, allora io dico 2 milioni, 3 milioni di pesos e dopo troviamo un punto di contatto. 400.000. Signor, parliamo se chiaro, io sono qui perché è una banca, se si può chiamare banca, e mi ha rubato la targhetta. Ora, io non sono abituato a trattare, non è il mio mestiere, io sono un vice diretor di un'altra banca, la vera banca. 2 milioni di pesos, né pesos di più né pesos di meno, prendere o lasciare. 400, 500, 600 milioni di pesos.